Perché fare un disco come Meme K Ultra? Perché non farlo? Nel senso che tranne qualche sporadico, forte esempio di fine 90, inizio 2000, in generale la commissione di generi tra rap, musica elettronica, musica rock, punk, è sempre stato il latitante numero uno nella musica italiana e quindi è giusto andare avanti e continuare a cercare un suono nuovo come abbiamo fatto noi per questo, che non fosse soltanto il risultato di anni di esperienza dei Trelegri, Ragazzi Morti o dei Corveleno, ma fosse un suono nuovo, ultra, ulteriore a quello che già abbiamo. Perché? Perché comunque anche all'estero il crossover vive il vegeto, penso non solo ai gruppi dei 90 come Reggio Castellemacino, ma anche band come Imagine Dragons continuano a fare questo, vedere il crossover come qualcosa di passato, secondo me è una cosa tutta italiana che non è propriamente esatta. Noi come band abbiamo comunque sempre cercato di superare gli steccati di genere relative al genere musicale, che nell'hip hop, soprattutto della vecchia scuola italiana, erano quasi dogmatici, a noi non ci è mai interessato e abbiamo scelto anche di fare dischi differenti, cercando anche di mettere musica rock, mettere influenze che fossero anche di altri generi musicali. Era da fare, per noi è un'esperienza bellissima, perché comunque è un incontro speciale, anche per un'anzianità nel cammino, perciò passiamo molto tempo a raccontarci cose, aneddoti. Adesso la faccio un po' così, però prima hai chiesto, ma immaginavate 20 anni fa di poter fare delle collaborazioni, ma delle volte succedono delle cose, anzi lo vedo di voi, ma da bambini, quando vi dicono ma un giorno sarete stato in un festival, il più bel festival d'Italia, voi cosa avreste detto? Ma no, non lo so, così, però stando sempre aperti succede di tutto. Io personalmente come batterista posso considerarmi il batterista più fortunato al mondo, a 50 anni imparo le batterie hip hop, quindi studiare fa bene. Per realizzare questo disco, che è stato fatto negli anni, anzi proprio a ridosso dell'inizio e durante la pandemia, abbiamo adottato un metodo di lavoro che non è proprio quello di sempre, però è stato bello anche per questo. C'era un disco che, come dicevo, avremmo voluto fare sempre, con una band di rilevo come la loro, e la distanza, perché io per esempio stavo in Sud America in quel periodo, ero bloccato là per mesi, poi negli Stati Uniti, ma da là è stato importante non mollare il colpo e portare avanti con tutti gli altri il disco e nella fase dei provini dell'idea del flusso creativo, proprio e proprio, non abbiamo smesso un secondo, anche se, devo dire che lavorare in remoto, o smart working, come preferiamo definirlo, non è il metodo più facile di tutti, però è stata una bella palestra, abbiamo visto che è possibile farlo, che non lo so, se in futuro ci sarà bisogno sappiamo che anche in quello possiamo lasciare il segno. La gente libera ha l'occhio sveglio ed è capace di capire al volo la fotografia del momento in cui stiamo vivendo, il titolo del disco è un gioco di parole con la madre di tutti i complotti, che è il progetto MKUltra. Fondamentalmente io credo che sia l'era del complottismo, questa qua, che viviamo, che non necessariamente implica falsità o fake news, ma in un'epoca come questa, dove dubitiamo di tutto, il vero e unico grande complotto personalmente è proprio quello che ci ha portato a dubitare di tutto e degli altri. Quindi è una forma totale di controllo della società. Volevo un attimino riagganciarmi all'argomento Covid, di come dall'inizio comunque di questo problema globale o prettamente occidentale che c'è stato col Covid, sicuramente si è trattato di un MKUltra, sicuramente questi sono protocolli, non è una questione di complottismo, cioè i governi sanno benissimo come si tratta, anche se per me è la prima volta in vita mia che trovo dei governi che lavorano per istigare alla tensione, al terrore storicamente, insomma qualsiasi disastro ambientale o comunque umanitario veniva sempre minimizzato, perché comunque il controllo della società ce l'è quando la società è tranquilla. In questo momento invece vedo proprio una pura istigazione al terrore, effettivamente quello che dice Giorgio, il più grosso complotto e direi anche tra virgolette una sconfitta per l'umanità in questo momento è proprio l'arrivare a dubitare dell'altro. Rispetto a questo ho sempre amato gridare che chi non ha antenne si tenga le corna. Sicuramente anche oggi, ma in modo molto più forte, all'inizio la tempesta è stata per noi una possibilità di poter vivere l'arte, qualsiasi sia l'arte per noi e la musica, con un sentimento incondizionato di libertà. Ed è quello che abbiamo provato ad offrire, immaginandoci un collettivo. Oggi non saprei, sicuramente, poi uno può anche stare in una stanza dove magari ti senti libero, ma sicuramente è una questione di sentimento che devi vivere tu in prima persona per poterlo affermare, perché sennò il tuo prossimo poi non se ne accorge. In realtà lavorare con etichette indipendenti permette anche di svincolarti un po' da quello che è la frustrazione e mania dei discografici al momento, piccoli e grandi, che è quella di inseguire gli algoritmi e soprattutto gli algoritmi nelle playlist. sulla strofa della gente libera, appunto, chiudo dicendo, differendomi a chi fa questo tipo di concetto una ragione di vita, per la pausa vanno a casa senza fare briefing su una ruota, lascio in coda tutti gli algoritmi per dire che è la maniera di togliersi il collare che la maggior parte dei miei colleghi vedo, proprio perché è durato, è pieno di pietre preziose, vedo che la maggior parte dei miei colleghi, non solo rapper, amano mettersi, quindi per loro va bene così e a me interessa soltanto fare musica che posso ascoltare anche dopo 5, 10, 15 anni con orgoglio. come dicevo, questo è un disco che avrei sempre voluto fare, lo stesso Squarta, Capo Centofanti che lavorano con me, con I Corveleno, ed è la cosa più figa della terra fare cose così e questo lo puoi fare se hai persone che, musicisti che fanno anche un'etichetta, sanno cosa significa fare la musica libera a 360 gradi. Guarda, da quando ho avuto i superpoteri nel supergruppo, per me è una palestra quotidiana perché comunque imparo tantissimo vedendo anche le dinamiche che legano loro come band e comunque non è una band di primo pelo, è una band che calca i palchi da tantissimo tempo quindi riuscire a approcciarsi a un metodo differente ma allo stesso tempo fare coesistere il nostro non ti dico la cosa più facile del mondo ma è lo stimolo più grande che c'è nel portare questo in giro per l'Italia e da aspettarci l'estate più figa degli ultimi dieci anni forse perché comunque un live come questo non lo vedevo da un sacco di tempo, non è perché lo facciamo noi ha la capacità di portare intanto tre show in uno, tre spettacoli in uno quello del disco Mk Ultra più il repertorio rispettivo di Tre Allegri e Corveleno con un gran finale che poi farà parte appunto della sorpresa di stasera e per me è magia, va bene così, non chiedo di meglio Cosa succederà questa sera non si può mai sapere sicuramente è una cosa che voi avete visto qui allo Sherwood Festival in cui noi abbiamo l'onore di essere ospitati proprio nella serata di chiusura forse vi sarete accorti che in questi giorni andare ai concerti sembra una cosa di un tempo almeno noi vediamo molto entusiasmo, un po' come negli anni 90 ora io non so quando siete nate però sembra di vivere l'entusiasmo della musica non che negli anni 2000 non ci sia stato però in questo momento probabilmente due anni di covid così delle restrizioni magari anche mentali quando in questo momento c'è un segnale molto forte almeno da parte di chi ama la musica come qualcosa che succede veramente dal vivo in diretta perché poi si pensa che è la band che fa il concerto e il pubblico in qualche modo gode di una cosa passivamente invece non è vero il concerto è sempre fatto metà e metà e questo tipo di accensione ci fa arrivare un sacco di energia ma si vede perciò forse non tutti i mali vengono per nuocere quindi mi devo buttare dal palco mi lancio alla vecchia grazie a voi